Maneggiavo la dinamite. Fin dalla prima giovinezza nelle cave di marmo, imparando da mio padre, maneggiavo la dinamite con la stessa confidenza con cui i miei compagni maneggiavano i tappetti delle birre giocando al giro d'Italia sul marciapiede. Prestai servizio nell'esercito italiano come artificiere e dopo lavorai ad Amsterdam. Agli inizi dovetti accontentarmi di combattere gli incendi pagato solo in caso di esito positivo. Poi le grandi società petrolifere cominciarono a pagarmi profumatamente per farmi accorrere d'urgenza. Un compenso di 40.000 dollari per un solo spegnimento era ben poco quando l'incendio può distruggere in un giorno 20.000 dollari di petrolio o di metano. Lo spegnimento di decine di incendi mi ha insegnato che l'ambiente esterno a me, anche se è una proiezione del mio intimo, è di capitale importanza per la mia evoluzione perché mi fa affrontare le difficoltà le più utili per il mio momento evolutivo da cui posso trarre un ulteriore avanzamento di coscienza. Capivo fino a dove potevo rischiare. Sul lavoro ero rigoroso come un sergente di prima nomina. Spiegavo ai miei dipendenti che un errore banale può costare la vita ed essi acquistavano fiducia dalla mia sicurezza. Qualche volta gli chiedevo quanta influenza aveva nel loro processo evolutivo spegnere gli incendi. Alcuni di loro mi rispondevano che non aveva nessuna influenza, altri che non capivano la domanda, altri ancora mi guardavano come un essere strano che li metteva in difficoltà. Io allora gli annunciavo che il loro lavoro sarebbe stato altamente evolutivo se essi diventavano il loro lavoro. Era un seme che io gettavo per i miei dipendenti a futura memoria in questa vita o in un'altra.